carissimi amici vedete questa bellissima ragazza ecco si chiama Francesca Ferreira è una mia allieva ma soprattutto una bella persona eh simpatica generosa coinvolgente quando siamo a lezione fa un sacco di domande non le basta mai eh c'ha sempre le curiosità sono le persone che io amo di più no? Perché senza curiosità non si va da nessuna parte e in questo senso sto anche preparando un post che poi tu so che sei una delle prime a leggerli e a commentarli. Francesca raccontaci un po' di te. Allora niente sai non non mi piace tanto parlare troppo di me perché sa un po' di presunzione e di concentrismo però giusto due parole per presentarmi. Allora innanzitutto grazie di avermi dato questa opportunità eh grazie di avermi dedicato il tuo tempo la tua stima il tuo effetto e anche il tuo insegnamento non è così scontato anche dire grazie ecco comunque eh allora il docente l'insegnante esiste se ci sono dei bravi allievi altrimenti sai come si dice a Roma? Predicatore che pratica il vento se pratichi per me non strilla tanto. Ah è quello che dice cioè eh tu puoi essere qui un pozzo di scienza ma se parli al vento eh insomma poco poco semine e poco raccogli. Quindi se stiamo qui perché ci sono persone come te diciamo eh ansiose di imparare di utilizzare i metodi eh di 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 mettersi in discussione. Cosa fai di bello? Allora eh adesso sono da qualche anno in pensione tu mi hai detto questa bella ragazza ti ringrazio per la ragazza ma in realtà non sono così giovane e in effetti sono già in pensione diciamo una pensione un po' forzata per via di motivi di salute però eh questa mia questo mio pensionamento prematuro mi ha dato anche modo di catapultarmi a peso morto, anima e corpo, ventiquattro ore quasi su ventiquattro nel mondo dell'astrologia che è sempre stata una mia passione sin da ragazzina e che ho coltivato a fasi alterne però non ho mai interrotto diciamo questo fil rouge che mi ha unito le cose celesti e e quindi ecco diciamo che poi la vita ti porta a roschiare un po' il tempo per cui devi anche fare delle scelte e in questi ultimi anni e quali il mio tempo si è anche un po' dilatato grazie a Dio ho avuto modo di diciamo dedicarmi completamente a questo mondo meraviglioso che è l'astrologia eh fra l'altro un dovuto ringraziamento lo devo anche una mia cara amica eh Patrizia che mi ha spronato in questo cammino ha avuto fiducia in me e mi ha regalato diciamo il primo corso e poi sai che mi ha regalato anche quello più completo con eh con te e quindi mi ha dato modo di dare una struttura a tutto quello che avevo imparato ma da autodidatta eh studiando leggendo per conto mio in tutti questi anni e poi sai anche tu che adesso comunque con tutti questi mezzi anche tecnologici è anche molto più semplice e facile acquisire una conoscenza un po' più articolata perché quello che una volta separava solamente tramite libri o chi aveva la fortuna di eh mettersi a diciamo ad ascoltare a seguire un maestro che si dedicasse a lui eh adesso anche online come vedi i corsi anche che fai tu sono abbastanza fruibili eh perché comunque eh sai la tecnologia in questo aiuta tantissimo per cui diciamo veramente eh ho avuto modo guarda ti dirò una cosa non per interromperti ma perché no no tranquilla tranquilla mi piace piace dirlo allora le nuove generazioni con internet hanno a disposizione una quantità di materiali di interventi anche gratuiti che la mia generazione si sognava perché era tutto molto segreto molto nascosto quindi dovevi entrare comunque in certi circoli certe associazioni certe conoscenze anche solo per poterti avvicinare a un corso a un maestro quindi era molto complesso dovevi comunque come minimo viaggiare comprare i testi da te quindi richiedeva uno sforzo economico che non tutti erano in grado di affrontare eh c'era anche un malanimo devo dire forse maggiore rispetto ad oggi dove le scienze alternative sono state molto eh più comprese apprezzate ehm c'è la fisica quantistica che ha sdoganato tantissimi dei nostri principi quindi c'è un grande rinnovamento culturale rispetto agli anni in cui sono cresciuta io e anche il fatto che si possono fare lezioni da casa la sera eh insomma siamo tutti mamme mogli nipoti nonne eh abbiamo la nostra vita eh chi lavora poi men che meno e il fatto di poter seguire dalla comodità di casa tua è è un un plus enorme per questo oggi noi eh possiamo diffondere così facilmente e ti faccio presente una cosa a cui nessuno pensa ma quando noi eravamo giovani e quindi ci facevamo i temi natali a mano nove volte su dieci avevamo delle effemeridi sbagliate quindi lavoravamo non solo con tanta fatica tante ore di lavoro ma spesso il tema natale che ne usciva era non era corretto perché dovevi essere in grado di riconoscere e trovare le effemeridi quelle più precise che capisci bene che effemeridi imprecise ti spostano una cuspide da un'altra parte un pianeta non è più in aspetto insomma sono cose di una certa entità quindi assolutamente certo sì sì in questo senso è anche eh non solo eh si fa potrescono fare previsioni più accurate più esatte ma oltretutto anche eh la conoscenza il sapere viene molto accelerato perché quello che tu potevi imparare in anni 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 adesso eh diciamo che in tempi relativamente relativamente brevi riesci già a conoscere abbastanza la materia anche se ti dirò lo sai tu meglio di me che in questa disciplina non si finisce mai di apprendere perché apri una porta e se ne riaprono altre cento no è una specie di scatola cinese per cui non si finisce mai di imparare e riallacciandomi a quello che hai detto tu della curiosità e proprio anche la mia curiosità no che mi ha spinto a dedicarmi a questa disciplina eh perché sin da ragazzina quando era da sola in casa che sbirciavo tra eh le riviste della mamma e i libri di mio papà che era insegnante quando avevamo la casa piena di libri mi ricordo che leggendo allora c'era questa rivista grazia mi sembra che allora scrivesse su grazia eh lucia alberti se non sbaglio quando eravamo ragazzina no e me affascinava questa signora che parlava eh di astri di destino poi con denazione eh sbirciando sempre tra i libri di mio papà avevo trovato un testo che parlava di mitologia greca e latina per cui mi avevano anche affascinato questi personaggi astrologici sai Marte Giove Mercurio Venere avevo fatto un po' l'abbinamento e poi comunque sempre la curiosità che porta a collegare anche le cose perché io non mi sono mai accontentata no del fatto che eh veniva confezionato veniva confezionata una previsione che parlava magari opposizioni quadrature pianeti dissonanti croci segni fissi segni immobili volevo più o meno capire di cosa si parlasse no tanto per sapere se in effetti c'era anche una corrispondenza eh che si potesse in qualche modo verificare e di lì iniziato proprio per la mia curiosità quest'amore per l'astrologia diciamo poi un altro aneddoto curioso eh mio padre era una persona abbastanza sai vecchia maniera un padre un po' sai di quelli rigidi severi per cui eh lui diceva sempre ragazze mie eh due padroni non si possono servire voi dovete studiare quindi vi dovete dedicare solo allo studio per cui c'erano questi pomeriggi interminabili a casa davanti al libro di scuola mentre magari i miei compagni i miei compagni si dedicavano all'attività fisiche e recreative di vario tipo e invece eh mio padre aveva questa fissazione per me il pomeriggio era interminabile poi sai che comunque più è tempo e meno ne hai alla fine perché sapendo che la giornata poi è lunga c'è la disposizione non la sfrutti il tempo scorre eh e alla fine non è concluso niente io cosa facevo mi aggiravo per casa appunto in cerca di libri da leggere cassette da aprire tesori da trovare ma diciamo che la l'attività principale era la lettura e quindi anche per quello diciamo eh sono diventata particolarmente curiosa e ho sempre amato molto leggere e apprendere e diciamo che malgrado eh la mia formazione anche scientifica perché io comunque sì che ho fatto un classico ma poi mi sono laureata in veterinaria ho sempre eh trovato che tutto sommato e poi col tempo con i corsi ne ho avuto conferma che alla base dell'astrologia comunque ci fossero delle evidenze eh che chiamarle scientifiche non si può perché non rientrano proprio nei canoni classici di quello che è eh il concetto di scienza però secondo me si avvicinano molto proprio per una questione di rilevanza statistica non per niente diciamo che un grandissimo astrologo come Ciro Discepolo ha fondato tutte le sue teorie proprio sull'evidenza scientifica perché a forza di eh accumulare casistica si vede che in effetti determinati transiti aspetti corrisponde una determinata situazione per cui diciamo che guarda permettimi di dire ovviamente le situazioni eh possono essere con una evidente matrice comune nel pianeta nell'aspetto che l'ha causato poi nella vita delle persone che sono ognuno romanzo a sé stante ovviamente lo stesso transito può assumere una forma una colorazione diversa ma il senso profondo del transito è immediatamente ravvisabile poi c'è quella persona che con quel pianeta si sposa e quell'altra divorzia no? Perché sono azioni che arrivano sulle vite che hanno un certo tipo di cammino no? Una certa fase tra l'altro a questo proposito dell'evidenza scientifica che è un tema a me molto caro essendo della vergine no? Cioè mi piace parlare di tutte le cose che sono verificabili ehm c'è da dire una cosa allora la scienza come non so la matematica piuttosto che eh la fisica la geometria si pregiano no? Di questo eh diciamo di questo giudizio di materie che eh propongono soluzioni e visioni delle cose in modo appunto scientifico cioè che tu le ripeti migliaia di volte si manifestano allo stesso modo preciso migliaia di volte e questo è un po' quello che succede con la scienza ma le scienze umane sanno che questa cosa non può essere perché la scienza che si occupa dell'uomo e quindi per esempio la medicina la psicologia non possono essere scienze esatte perché hai a che fare con una tale infinità di varianti cioè le vite delle persone che non è possibile stabilire delle regole universali che si applichino con costanza e tutte le volte diano lo stesso risultato. Cioè le scienze che riguardano l'essere umano non possono essere scienze esatte e quindi tantomeno l'astrologia in questo senso ma mi pregio di dire che di tutte le scienze umane l'astrologia è quella che dà dei risultati statistici più interessanti cioè più validati e questo mi sembra incredibile che ancora c'è chi lo nega perché voglio dire ma beh gli occhi foderati del prosciutto insomma ecco cioè probabilmente sono molte di più le previsioni ben fatte con l'astrologia che non le diagnosi azzeccate a prima botta da un medico ecco anche sarà che io occupandomi molto di astrologia medica vedo tantissime persone quello che passano no con una capacità diagnostica pari a zero e quindi so bene che la percentuale di previsioni che io ho fatto giuste sono sicuramente molto di più di quelle di tanti diagnosi. Tu sei anche tanto brava e tanta esperienza e comunque ti dirò una frase che hai detto tu e ripeti hai ripetuto più volte durante le tue lezioni è che magari non si sa bene come funzioni però funziona ed è vero no cioè siamo di fronte a delle cose che magari noi non riusciamo completamente come dici tu perché siamo nel campo delle scienze umane quindi non è nel campito strettamente scientifico in cui due più due fa quattro però chissà perché anche nell'esperienza di persone magari meno pratiche che hanno avuto meno esperienza di te nel nostro piccolo anche noi tutti diciamo allievi i tuoi allievi abbiamo verificato che c'è questa corrispondenza e assolutamente tant'è che ti dico una cosa penso che sia capitato a tutti quelli che studiano si appassionano di astrologia tante volte nel corso della vita ci sono dei momenti magari di sconforto in cui dici ma magari sto perdendo il mio tempo vado indietro vado dietro magari delle cose assurde che non hanno fondamento no poi ti capita quel tema davanti ti capita quella persona ti capita quel caso che in effetti dici no non è possibile troppo calzare ecco penso che non sia capitato solo a me immagino no che al momento ci sono delle cose talmente evidenti che non puoi negarle ecco assolutamente ma come fanno non ci crede come fanno e guarda ognuno di noi ha un approccio diverso alla vita e le sue problematiche c'è anche da dire che io ho sempre anche pensato una cosa e vorrei sapere anche cosa ne pensi tu che sei una persona intelligente preparata è un'altra cosa che ho avuto modo nella mia vita che insomma non sono una ragazzina ecco ho la mia età per cui ho anche una certa esperienza di vita a prescindere dalle mie conoscenze astrologiche ho notato che comunque anche aver avuto o avere un percorso di vita difficile complicato sfidante ti porta di più ad abbracciare quelle discipline o quella spiritualità che in qualche modo ti può dare delle risposte perché se anche vero come dici tu che la maggior la la domanda più frequente che si fa l'astrologo e tornerà gigetto infatti mi fai ridere quando dici così però è la verità è anche vero che magari una persona che ha l'amore che ha una situazione economica florida e c'è già avere già il cuore a posto e tanta roba comunque no avere una salute più che discreta certamente magari non ti interroghi su quella che è l'essenza della vita o quello che è il motore che governa il mondo come magari una persona che da quando è bambina e piccola ha dovuto scontrarsi con tanto dolore con tante difficoltà io ho sempre pensato così perché adesso a prescindere da gigetto se torna o meno poi torna finito il problema chi ha un destino comunque difficile comunque triste si scontra quasi quotidianamente no con la pesantezza della vita e si aggrappa come un salvagente a ciò che potrebbe rendere più semplice più facile questo cammino che abbiamo io penso così fra l'altro dico questo in due minuti poi ti lascio di nuovo la parola una cosa che mi piace l'esempio della tua scuola che anche tu sei un allieva di discepolo quindi questa astrologia che a qualche modo essendo attiva cerca di porre un rimedio no quantomeno originare certi temi certi aspetti che comunque sono di per sé difficili sfidanti e a questo proposito una analogia sempre grazie alla mia curiosità l'ho trovata anche nell'astrogenologia perché se vogliamo anche l'astrogenologia in qualche modo ti permette di correggere quello che apparentemente potrebbe essere potrebbe sembrare un destino segnato perché andando poi a rivedere quella che la tua ascendenza vai a sistemare determinate cose e quindi doppiamente ci sono queste due branche dell'astrologia che mi appassionano tantissimo ecco scusami dell'ascurso sono un po' lungo però volevo molto interessante quello che dici guarda sul fatto che il migliore astrologo è quello che ha avuto una vita piena dal mio punto di vista sfondi una porta aperta nel senso è comunque la scienza della vita della complessità della vita no a vent'anni non ce l'hai l'esperienza per capire il messaggio delle stelle e deve essere anche non solo una vita molto intensa con le sue asperità con le sue parti d'ombra sono i dispiaceri che poi credimi ce l'hanno un po' tutti eh perché sai Saturno gira sulla tua testa come sulla mia eh alla fine il percorso di vita di degli uomini eh si somiglia sempre molto detto che c'è anche chi nasce insomma con giove dominante magari gli dice un po' bene nel qualche caso però al di là di questo è vero che per fare l'astrologo avvicinarsi a questo mondo se hai avuto già una tua vita hai fatto le tue esperienze in particolare se sono state esperienze di patimento ti avvicini all'astrologia per trovare le risposte perché ti chiedi cosa accadrà ti dico una cosa eh fondamentalmente per la mia natura se non avessi conosciuto Ciro Discepolo non sarei diventato un astrologa nel senso che eh a me piace fare cose utili come tutte le donne della vergine penso no che sono eh del segno che deve far funzionare il meccanismo la salute la vita quotidiana la nostra vita deve marciare eh se non ci fosse stato niente da fare cioè avessimo dovuto eh subire gli strali del destino dei pianeti avversi senza poter far altro che prevederli probabilmente avrei detto no non li voglio prevedere preferisco alzarmi la mattina eh sentire gli uccellini che cantano e sperare che Dio me la mandi buona capito cioè eh se non ci posso fare niente voglio dire meglio non sapere a questo punto no certo e anche perché diciamolo per fare l'astrologo ci vogliono le spalle forti perché tu dopo un po' vedi le difficoltà che arrivano a te alle persone che ami no insomma devi avere un certo coraggio e devi avere anche una certa capacità di di gestire i problemi quando si presentano cioè l'astrologia non è per stomaco delicato eh assolutamente vero 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 perché tu le cose vedi le cose belle ma ahimè eh vedi anche quelle difficili quelle brutte quelle eh potenzialmente comunque pericolose per l'ordine che ti sei costruito intorno ad esempio scusa se ti interrompo mio figlio mi ha appena comunicato che eh forse farà un anno di studio universitario in Brasile e io avevo appena guardato la sua mappa astrocartografica e in effetti è la linea di Plutone dovina dove sul Brasile e in quello scusa ho interrotto proprio per dare più come dire più enfasi a quello che appena ha detto tu no nel senso certe volte ci vuole coraggio è quello che si si vede si viene a sapere è anche abbastanza doloroso vai a dire col figlio no non c'è andare perché la linea di Plutone che ti passa sul Brasile insomma già che mio figlio insomma non è proprio un amante dell'astrologia gli vai a dire una cosa così ho capito eh però guarda vedi la così mi sento di fare l'astrologa gioviale non è detto che gli succeda qualcosa probabilmente ne uscirà completamente trasformato sì infatti mettiamola su quel ecco alla sua età è sicuramente più facile questo certo però sai una mamma che è il figlio che ti va in un posto dove hai la linea di Plutone cioè tu sei una mamma anche tu mettiti nei miei panni non è molto sì io penso che avrei cominciato a fare le macumbe mi era venuta voglia di strapparle il passaporto ho detto no non mi sembra il caso e poi non è ancora detto in effetti spero ancora che ci sia qualcosa che si metta di traverso guarda eh però sai alla fine dovrei vedere il suo cielo poi magari me lo mandi vediamo un po' che cosa dice grazie volentieri sì sì lo vedo e ad ogni modo sì ecco bisogna avere lo stomaco pieno di peli perché poi ecco vedi queste cose e ti agiti no devi avere la capacità di sopportare la verità che non è un dono che tutti gli esseri umani hanno eh non sta neanche scritto da nessuna parte che ci vuole una stazza morale un equilibrio interiore un coordinamento personale delle proprie convinzioni anche abbastanza rigido secondo me detto questo io come ti ho detto mi sono avvicinata perché eh ci odiscevolo con l'astrologia attiva e cioè l'esorcizzazione del simbolo in primis e eh i viaggi mirati in secundis mi hanno fatto capire che non era una condanna ma che studiando tanto avremmo potuto pilotare questa energia a nostro vantaggio e lì allora io ho sentito che c'era un messaggio importante perché chiaramente ho fatto delle prove su di me per anni ho studiato ho verificato e quando ho controllato che effettivamente c'era un'immensa verità nelle sue parole eh ho studiato veramente come se non ci fosse un domani tanto come si direbbe oggi no? E e mi ha dato una speranza perché adesso quando io ho il pianeta storto so che posso comunque attuare una serie di azioni che alleggeriscono il fardello e che alla mala parata se proprio la vengo buia a scappo a festeggiare il compleanno da qualche parte che non cancella eh tutta l'esizialità dei transiti perché poi alla fine li vivi lo stesso ma li vivi a un'ottava inferiore in termini di impatto sulla propria vita che è tanta roba è un po' poi a me piace molto questo messaggio perché io eh io sono convinta che l'essere umano sia su questa terra per essere felice per evolvere eh nel progresso nella salute nella felicità nella realizzazione no? E credo che sia bello che lo stesso universo che ha creato questi pianeti l'universo io sono credente penso che ci sia la mano divina ma insomma quello che si pensa si pensa non influisce sul risultato no? Ecco io credo che lo stesso universo ci abbia dato una chiave di lettura affinché noi possiamo interagire positivamente eh con gli eventi che le stelle ci ci mandano eh ed è una grande salvezza è una salvezza. Assolutamente d'accordo sì sì anch'io penso così come te sarà anch'io per con la venera in vergine quindi eh ho questo anch'io questo senso pratico non non mi piace sottostare sottomettermi a qualcosa che non riesco a capire in qualche modo non riesco ad arginare nei suoi effetti no? E anch'io come te sono molto credente e e penso che le due cose non siano assolutamente inconciliabili anche perché eh insomma conoscendo la storia sappiamo tutti che l'astrologia è stata appannaggio di di della chiesa per tanti anni no? Poi per altri motivi sono subentrati questi veti però eh non trovo inconciliabile il fatto che comunque eh al di là dell'influenza che gli astri abbiano su di noi ci sia comunque una mente superiore che governi tutto non per niente c'è quella frase famosa che dice eh astra reggunt homines eh sed reggit astra deus nel senso e gli astri reggono le sorti umane ma Dio regge gli astri no? Io almeno la penso così eh adesso sì c'è una sorta di demonizzazione però eh sappiamo insomma che però guarda ti posso dire una cosa allora io ho intervistato eh padre Rocco Zappia che è un sacerdote uno studioso un astrologo tiene corsi di consapevolezza di fede eh allora durante questa intervista ovviamente è il problema della credibilità dell'astrologia no? Eh è venuto fuori adesso lui fa questo di mestiere ne parla ampiamente e non è stato messo alla berlina dalla chiesa stessa giustamente spiegava che c'è una sorta di refrattarietà della chiesa verso l'oroscopia segno solare cioè verso tutte queste eh come dire letture letturine assi io sono dell'ariete allora devo fare il soldato piuttosto che ah questo è l'anno dei gemelli allora mi butto cioè il cercare un indirizzo un consiglio una risposta eh in un qualcosa di estremamente commerciale non pensato in chiave evolutiva mentre l'astrologia ovviamente è un sacerdote quindi parla di una spiritualità eh ammantata di religiosità eh ovviamente cristiana ma dice lui mi raccontava che ha alunni buddhisti eh di varie religioni no? Dice se tu invece studi l'astrologia quella più profonda e lo fai per avere delle risposte sulla tua vita spirituale quella è un'astrologia che anche quella la chiesa non vede male è un percorso che ti avvicina a Dio non che te ne allontana il problema è che oggi fare una separazione rispetto al grande pubblico di questi due mondi che in realtà non si toccano non è facile assolutamente no questo è il grosso problema cioè probabilmente se l'oroscopia da cabaret televisivo sparisse e rimanesse solo la nostra riusciremmo ad ottenere un viatico anche eh diciamo così dalle alte sfere insomma poi eh prendendo la mia affermazione ovviamente con tutto eh tutte le molle necessarie però sicuramente è una disciplina culturalmente importante che ti avvicina al divino ci serve sicuramente meno ostilità. Certo questo è indubbiamente anche se ti dirò una cosa eh l'oroscopia certamente eh un'astrologia veramente a buon mercato che non dà assolutamente l'idea di quella che eh la vera indagine astrologica però mi permetto di dire una cosa anche in quell'ambito non tutti eh sono allo stesso livello e in più secondo me eh da un lato eh riescono a fare ad attirare magari tanta gente che poi o per curiosità o per altri motivi poi diventa magari studioso e riesce a capire eh che quello è un ambito diciamo più così da intrattenimento e però rimane comunque una specie di porta d'ingresso verso l'astrologia vera. Io stessa se non avessi letto per dire eh su grazie a Lucia Alberti che faceva quei belli oroscopi eh comunque anche lì forse eh non è tutto da da rigettare cioè lo so che mi attirerò le ira di tutti i bravi astrologi però comunque eh diciamo che va a stimolare una certa curiosità che poi qualcuno approfonderà in modo più come dire più scientifico più più eh da un punto di vista diciamo più. Sì io capisco intendi cioè dici vabbè è un modo comunque per far sapere che esistiamo certo perché se no rimarrebbe una cosa proprio di nicchia nicchia ecco quello che intendo direi. Può darsi che tu abbia anche le tue ragioni io non discuto questo sicuramente di tutto il marimagnum di persone che si legge l'oroscopio guarda Paolo Fox eh in questo senso per esempio Simon in the Stars sta cercando di spiegare anche delle cose di un'astrologia un po' più avanzata eh e questo mi piace come tipo di obiettivo eh lo facessero tutti no di entrare un pochino più nel profondo infatti ti ho detto ci sono quelli che sono proprio eh più terra terra che fanno proprio un'astrologia buon mercato che veramente fa un gran danno l'astrologia vera però ci sono quelli che anche danno qualche spiegazione che sono persone che a loro volta magari avendo una cultura astrologica abbastanza insomma importante non dicono proprio delle stupidaggine quando danno non dico quando fanno la previsione ma quantomeno quando cercano di spiegare il perché di certi passaggi di certe cose quello volevo dire. Vada su questo ti ti posso dare ragione nel senso che eh poi comunque eh è bene che le cose girino altrimenti ci rinchiuderemmo però c'ho da dire due cose. Allora la prima è che mi piacerebbe tanto se queste persone che fanno comunque oroscopia cercassero ecco tutti nel contempo anche di divulgare un po' eh quello che basterebbe anche un dire ogni tanto eh sì ok questo è l'anno dei gemelli però ricordate che i termini natali sono tutti eh diversi l'uno dall'altro quindi potreste essere dei gemelli ma non godere di questo beneficio o potreste essere della bilancia e avere gli stessi benefici dei gemelli no per varie ragioni se avete bisogno di capire meglio il vostro destino rivolgetevi sempre ad un astrologo professionista basterebbe dire questo ogni tanto no? Cioè lanciare la palla perché altrimenti stai alla buona volontà di chi ascolta di incuriosirsi e di questi tempi che sono tempi tristi diciamolo eh persone non non sono così recettive credimi come come magari un tempo su questo troppa tristezza basta sentire un telegiornale che ti avvilisci se solo hai un po' di coscienza personale ti avvilisci e poi c'è un'altra cosa che eh a mio avviso eh diciamo ci sta in questo senso sarebbe bello se si cominciasse sempre anche proprio per far divulgare l'astrologia ad interpellare qualche astrologo anche per questioni più serie dell'anno del sagittario cosa che eh finora è un po' mancata no? Eh nel senso non voglio dire al telegiornale però insomma su qualche caso di cronaca piuttosto che su qualche problema di politica mondiale cioè gli astrologi sanno fare molto bene il loro lavoro e eh ecco anche qui sarebbe bello se qualcuno chiedesse il nostro parere su qualche questione un po' più importante. Detto anche questo eh ti dirò che in pochi non siamo cioè tu dici una nicchia allora io sarò pure voglio dire ero partita un po' come te no? Ah siamo una nicchia siamo una nicchia diamo voce a tutti. Siamo una nicchia siamo una nicchia sono quasi due anni che ho intervisto astrologi che non ho neanche finito per non parlare degli allievi gli appassionati eh autori di blog eh astrologi nerba che stanno venendo fuori ecco io mi sento di dire una cosa in assoluto non siamo una nicchia siamo quantità di persone enorme e abbiamo diritto ad avere le nostre pubblicazioni i nostri spazi sui mezzi di comunicazione e le nostre rappresentanze all'interno delle università e dei circoli eh culturali perché siamo un'infinità ecco eh eh lo so che sembra che siamo pochi che magari esci la sera con gli amici che sono tutti convinti che ne so che l'astrologia non funzioni e che adesso c'è il tredicesimo segno che si chiama Fiuco va bene eh ma non siamo pochi siamo nascosti non veniamo alla luce non tutti hanno magari il modo di fare corsi scrivere leggere ma non siamo pochi e io fra allievi docenti e quant'altro ho ancora un elenco di persone da intervistare lunghissimo cioè questo è un progetto che mi porterà via forse non dico la vita intera ma eh se poi per proprio anche solo per caso volessi uscire dai confini italiani diventiamo milioni su milioni cioè milioni di persone diciamo tra l'altro scusa se ti interrompo hai avuto questo enorme merito di eh riunire centrare tutto lo scibile astrologico di tutti i tipi perché eh hai fatto questa hai fondato questa accademia che dà voce a tutte le branche a tutte le discipline a tutte le opinioni e è fatto veramente un lavoro ciclopico e lo stai ancora facendo lo farai ancora e quindi certamente accentrando così tanta cultura astrologica si riesce anche ad avere contezza del numero effettivamente eh dei grandi numeri che ha l'astrologia al giorno d'oggi perché se comunque eh non ci fosse stata anche questa opera tua no di mettere insieme un po' tutti magari non avremmo contezza di questi grandi numeri e questo bisogna dartene atto. Eh io guarda io stessa me ne sono resa conto andando avanti nel senso che comincio a cercare no persone scritti io sono partita dai libri eh ho tutto quello che era stato scritto che mi era piaciuto quello che avevo voglia ancora di leggere no e poi lì si è aperto un oceano di possibilità eh di di contatti di cose che mano mano che studiavo mi citavano altri autori ecco guarda proprio prima di te ho intervistato eh una una persona che si occupa di medicina olistica astrologia fiori di bacche eccetera e mi ha detto che ha scritto questo libro su fiori di bacche astrologia con un astrologa perché lui è un medico olistico e mi ha detto se vuoi ti passo i contatti così intervisti anche lei ecco un'altra persona per dire spuntare dal nulla e che però ha scritto un libro un libro che tra l'altro è la quinta di stampa quindi voglio dire non eh eh Pippo Pluto e Paperino no? Ecco e e e ancora io non ero riuscita ad evidenziarla questa persona perché c'è un immenso sottobasco di autori con diciamolo gli attributi che gli fumano che per vuoi per timidezza vuoi perché magari non sanno usare bene i social vuoi perché le case editrici ultimamente non fanno il loro lavoro non divulgano non promuovono a meno che tu non sia un dausex macchina tipo Marco pesatori con agganci in mezzo a eh tipo il mondo culturale italiano no? Ecco eh ma c'è della gente che veramente a me a pesatori e forse a volte anche a qualche altro grande astrologo noto gli dà le mele e che ancora non è uscito abbastanza allo scoperto quindi un po' sì questa è diventata per me una sorta di missione parallela e tutte le volte che incontro una persona così poi cerco di portarla in aula perché questo sapore sì senti a me se vede cosa le pranzo questo sapere eh non deve andare perso ecco perché altrimenti se tutta la sapienza di una persona sta magari in uno o due libri che poi dopo un po' non si non vengono ristampati questo sapere si perde. Certamente infatti è un grande merito che hai quello di dar voce a tutti e di divulgare questa queste conoscenze infatti io ogni tanto ti chiamo la Piero Angela dell'astrologia ringrazio anche se sai che Piero Angela no nel senso appunto di divulgatrice perché è importante anche divulgare non basta saperlo per se stessi no bisogna anche fare l'opera di divulgazione e l'altro ti dirò eh il fatto che tu metti a conoscenza del tuo sapere di quello di tanti altri bravi astrologi vuol dire che tu non vuoi tenere tutto per te stessa questo ti fa tanto onore anche no perché stai creando comunque delle persone che capaci che un domani possono a loro volta essere dei fari di di sapienza di scienza io ve lo auguro perché vedi Francesca cioè dietro di te qualcosa devi lasciare e va bene ci sono persone che lasceranno solo l'amore per i loro cari perché magari non hanno avuto una vera vocazione hanno solo fatto un lavoro magari si saranno espressi nei sentimenti o in altri tipo di attività ma chi riesce ad arrivare a delle conoscenze che possono sicuramente cambiare la vita del genere umano deve fare in modo di trasmetterle non può portarsene appresso quindi o scrive tanti libri come ha fatto Ciro o avrà un'accademia come ho fatto io comunque deve farlo perché solo tramite l'esempio di chi ci ha preceduto noi possiamo continuare no nel nostro cammino e a questo proposito dimmi cosa ci farai tu con l'astrologia che stai studiando così tanto da tanto tempo poi alla fine sì 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 perché è veramente tanto che sono che studio astrologia e guarda mi rifaccio una cosa che ha detto Ciro Discepolo allora devi sapere che ho Marte in dodicesima casa e purtroppo ce l'ha anche mio figlio fra l'altro vabbè lui studia medicina e quindi avviamo io sono laureata in veterinaria però veterinario sinceramente non l'ho mai fatto ti dico anche il perché è prima volta che mi sono trovata in sala operatoria con questo gattino che si era infilzato sai su quei cancelli con le pade mentre si stava cucendo lui cercando di salvarlo basta sono svenuta di lì ho capito che forse il sangue non era proprio a mente poi c'è da dire che comunque adesso non per auto incensarmi sono una persona abbastanza sensibile cioè mi piace aiutare ritengo di essere abbastanza buona no di animo e quindi cosa farò della mia astrologia aiuterò le persone perché comunque parte che mi piace aiutare una mia mission sempre sono sempre stata ecco anche fatto di amare gli animali no ti dice comunque mi piace aiutare chi ha bisogno e chi è indifeso e quindi non solo aiuterò gli altri ma come dice ciro discepolo aiuterò anche me stessa no perché comunque chi aiuta alla fine gli altri aiuta anche se stesso è così è quello che riuscirò a fare e cercherò di fare ecco ma guarda a volte basta poco nel senso è vero che l'astrologia è una disciplina immensa ma quando vuoi aiutare una persona anche solo che si parla dei transi di Marte Urano e Plutone e le insegna a questa persona come viverli come cavarne sicuramente delle opportunità anzi che degli ostacoli hai fatto bingo sì infatti assolutamente sì sì non è necessario ricordarsi gli aforismi di Cardano per aiutare una persona con l'astrologia cioè si può fare anche un lavoro più immediato ma certo la cultura fa sempre bene ti fa vedere cose che altri non vedono no per carità ci tengo che voi dalla mia accademia usciate con una visione molto ampia però poi vedrai che le verità più grosse della vita delle persone sono quelle che si leggono nelle basi cioè i movimenti transiti dei pianeti da soli ci raccontano grossomodo la vita di una persona quindi siamo in grado già leggendo quelli aiutandoli a a a capire il meccanismo dell'esorcizzazione secondo me già questo gli fai un regalo immenso e poi magari le persone così diventeranno ancora più curiose di autosalvarsi no perché pensa se tutti facessero l'astrologia dalle elementari cioè comincierebbero a leggere le difficoltà della vita ad accettare delle lezioni a comprendere quando è il momento di espandersi il momento di ritirarsi no le sistole le diastole della vita quindi assolutamente sì come anche autoconoscenza anche quello è molto importante conoscerci scoprire sempre cose nuove di se stessi comprendere anche le persone con cui interagisci anche quello è molto importante secondo me avere i cavi di lettura per avere anche una maggiore comprensione delle persone con cui vieni a contatto è una bella cosa bellissima dell'astrologia diciamo che anche forse la più semplice no l'astrologia forse del principiante riuscire a capire l'essenza di una persona dal suo tema natale anche se poi sappiamo benissimo che ci sono mille sfaccettature che anche il nostro tema natale di noi stessi quante volte noi rivedendolo scopriamo sempre qualcosa di nuovo perché un simbolo può avere mille significati no io ho un urano in quarta casa vicino al sole no un esempio che faccio sempre quando parlo con le mie amiche o con mi capita il mio urano in quarta casa congiunto al sole cioè io l'ho declinato in tutte le sue forme da quando sono piccina dalla famiglia particolare di origine al padre morto precocemente al fatto di essere comunque una persona originale del fatto mille traslochi nella mia vita cioè io veramente ho declinato questo simbolo in tutte le sue forme aspetti ancora che sa quanti ce ne saranno questo giusto un esempio per dirti com'è affascinante questa materia cioè proprio e poi mi è cucita addosso ti dico di più forse sempre per stare in ambito astrologico il fatto di avere un ascendente gemelli mi rende molto curiosa io amo sapere amo conoscere per cui se per natura sono tendo ad annoiarmi facilmente delle cose con l'astrologia non mi annoierò mai perché comunque talmente vasta come disciplina è con un continuo come dicevi tu prima sono continue porte che si aprono approfondisce una cosa non è finito di approfondirla che se ne apre un'altra come dicevi tu adesso della intervista che hai fatto prima di me no e quindi questa curiosità non si placcherà mai quindi posso proprio dire di aver trovato la mia giusta quadra che mi darà tante soddisfazioni tanto guarda te lo dico ci avrai pure 90 anni ci sarà l'autore che scopre una cosa e tu no lo devo assolutamente sapere e io una cosa ho imparato dalla vita finché non invecchia il cervello il corpo lo segue vero verissimo verissimo finché magari si te tremano le ginocchia hai la dentiera hai perso i capelli e varie ed eventuali della vita che insomma voglio dire fa parte del tutto ma finché il cervello lavora si mantiene attivo e curioso indaga studia propone sarai sempre giovane quindi il fisico è un po ammaccato ma ti seguirà sicuramente ragione ragione infatti è una disciplina che mi dà un entusiasmo guarda è proprio una passione bellissima che mi riempie la vita mi riempie giorni poi adesso con la fortuna di avere tanto tempo anche per coltivarla non ti dico proprio un mondo come magari appena è finito il corso ti piacerà fare qualcosa anche con l'accademia lo sai che io certo quando quando riterrai opportuno che tu ormai se non sbaglio finisci a luglio non è che siamo poi così tanto lontani però sai che la patrizia mi ha gentilmente omaggiata del corso di specializzazione quindi ho altri due anni da fare praticamente eh lo so lo so però dopo il primo anno qualcosina eh si può fare scrivere qualcosa fare tutoraggio alle aule e insomma ci sono delle attività che si possono fare per portare avanti la fiaccola io eh di genere intervisto gli allievi che penso possano anche eh perché no eh permarsi a collaborare con noi per un po' a lungo cioè persone che sono adatte ad accendere la fiaccola in altre persone io credo che tu sia sicuramente adatta a fare questo per sicuramente eh no ma sarà un onore e un piacere allora io ti lascio perché ahimè eh altri doveri altri consulti incombono è stato veramente bello farsi questa chiacchierata con te e credo che tutti quelli che stanno magari in dubbio ma chissà se è una materia per me se mi piacerà no perché poi eh ovviamente prima di scriversi a un corso di cominciare a leggere i libri no eh c'è un po' questa eh questa domanda come dire dentro di sé ecco chi ti ascolta sicuramente eh capirà cosa può portare lo studio dell'astrologia e valutare se effettivamente possono aver bisogno di crescere insieme all'universo se la loro strada sarà un'altra quindi ti ringrazio tanto del tempo che ci hai dedicato noi ci vediamo a lezione ma non so dove quando nelle varie cose dell'universo però sicuramente ci vediamo ciao caro buona giornata e buon pranzo ciao grazie mille ciao grazie ciao 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 ciao